Ciao a tutti sono Bounce777 e benvenuti nell'apertura dei 10 pacchetti giocatori oro premium da 25.000 crediti l'uno Vado ad aprire il primo, questa settimana c'è Messi come il migliore degli informa e quindi punterò a trovare lui Però abbiamo Messi che c'è, suo primo pacchetto Boni La seconda Andiamo Andanovic Si Andanovic Terzo pacchetto C'è La, l'andro Va E vi ricordo anche che avremo uscirà la primavera di un milione Crouch Ancora niente Due argento Higuain Hernandez E Hernandez L'ha proprio col naso questa Ok Mkhitaryan Mkhitaryan Falcao, mi apporterà fortuna Runei 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 da 40.000 Meglio Mkhitaryan Niente E adesso Le ultime tre rimanenti Alaba Alaba Sui 10.000 Anche Alaba Non male pure questo Non la salto e c'è Chi è? Uno dei lini Milito Troverò qualcosa La risposta E Wellington E quindi no E quindi anche questa volta non ho trovato niente stranamente proprio No vabbè qualcosa ho trovato però Non quello che cercavo E comunque vi ricordo un'altra volta che arriverà forse settimana prossima l'apertura di un milione di crediti Adesso inizierò Nuove 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 serie Si Nuove serie E E Basta Dabau777 E' tutto Ciao a tutti Cosa ho fatto?